Amici e guardoni della letteratura, ben ritrovati con le nostre amabili micro recensioni. Vi recensisco oggi un romanzo che ho appena concluso, non di scrivere, si capisce, ma di leggere, con una storia personale, diciamo così particolare, che mi piace di raccontarvi. Ricordo che, mi sembra dire che io abbia cent'anni, ricordo che, vabbè, comunque, ricordo che al liceo avevo una bravissima, ancorché pedantissima insegnante di letteratura italiana, e facendo letteratura, storia della letteratura, a un certo momento facemmo, pur un po' sans, Fogazzaro, Antonio Fogazzaro. Grande, grande romanziere italiano, un poco forse dimenticato, ci torniamo su questo tema, che tra le altre cose, va bene, è famoso per Piccolo Mondo Antico, che è un titolo che magari avete già sentito nominare, un romanzo splendido, bellissimo, che ho letto un po' di anni fa, veramente notevolissimo, di cui, e torno di nuovo sull'argomento, di cui non si capisce perché sia così negletto, ecco. Ma, in ogni caso, ricordo che mi fece impressione, durante lo studio manualistico dell'autore, questa voce, questo suo testo, Malombra, il suo primo romanzo. Mi fece una tale impressione, per via della trama, che lo acquistai, poi, siccome è piuttosto ponderoso, circa 400 pagine, siccome io all'epoca non è che fossi un lettore voracissimo, lo lasciai lì, sullo scaffale, per anni e anni e anni, a prendere polvere. E, insomma, che questo benedetto romanzo è rimasto sullo scaffale, a prendere polvere, a guardarmi per, grosso modo, 12-13 anni, fino a che, qualche giorno fa, mi sono risolto e ho detto, bene, lo leggo. Ebbene, come posso incominciare? Beh, incominciamo inquadrandolo storicamente, per l'intanto. Dunque, il romanzo esce nel 1881, è il primo romanzo di Fogazzaro, che nel frattempo ha fatto già qualche tentativo letterario, specialmente nella poesia. È un romanzo romantico, del romanticismo italiano. La trama, in breve, naturalmente in breve, che poi non è l'elemento, come vi dirò dopo, più rilevante, a mio parere, del romanzo. Però la trama è interessante, perché è proprio una trama romantica, nel senso del romanticismo europeo, del tardo romanticismo europeo. Succede che c'è questo signor Corrado Silla, che viene chiamato da un misterioso nobile al castello di quest'ultimo. Prende il treno, va, eccetera, arriva a questo castello, su per dei bricchi, in una località veramente romantica, bellissima, è descritto con grande potenza il paesaggio, le colline, le alpi, il lago, i fiori, questo castello gotico, eccetera. Insomma, che il conte che abita il castello, questo vecchio conte, desidera i servigi di Corrado Silla, perché ne conosceva la madre, era amico della madre, desidera che questo intellettuale milanese lo aiuti a stendere certe riflessioni di filosofia politica. Al castello abita anche la marina, la signorina, la contessa, la marchesa, la contessa, non so, marina di Malombra, che dà il nome naturalmente al libro. Insomma, per farvela breve, signori, mentre i due uomini sono impegnati nei loro traffici filosofici, questa signora, questa signorina, che è veramente una donna, un personaggio romantico anche lei, quindi piena di passione, bellissima, ombrosa, come il nome stesso suggerisce, d'altra parte, con veramente, di fatto, con una complessione nervosa, si diceva una volta, cioè un carattere estremamente costante, tempestoso, eccetera, scopre in uno stipo di un vecchio mobile della camera dove risiede, dei vecchi scritti, dei vecchi documenti, eccetera, appartenuti a una sua antenata, che morì pazza nel castello, Cecilia. Insomma, lei si ritiene la reincarnazione di Cecilia. E qui sta un po', diciamo, la verba, la verba romantica del libro. Questa marina di Malombra barra Cecilia smania e presa dalla convinzione di essere la reincarnazione, punto dell'antenata, si innamora di questo Silla, insomma, c'è tutto un tire molla infinito. Ve la faccio breve, naturalmente. Ripeto, perché la trama poi non è l'elemento fondamentale. Succederà alla fine, spoiler, chiudetevi le orecchie per chi non vuole sentire come va a finire, finirà che la Malombra, la Marchesa, Contessa o quello che è, ucciderà sia il conte, farà morire ad un colpo, farà venire un colpo al conte, e poi ucciderà anche Silla, l'amante amato che non l'amava abbastanza. Questa è più o meno la trama. Ma la trama rileva poco, a mio parere, e qui veniamo alle considerazioni più serie a proposito del romanzo. Allora, Fogazzaro è uno scrittore eccezionale. L'elemento, diciamo così, drammaturgico è quello che gli riesce meno. Quindi l'intreccio di motivi narrativi, la suspense, queste cose qui, insomma, ci sono poco. Ma c'è uno, una potenza descrittiva fantasmagorica, fantasmagorica. Sei lì nei colori, nel vento, nell'acqua, nei tramonti, nelle albe, nei meriggi, nelle notti stellate, sotto le logge di pietra fredda di questo castello. È veramente potentissimo, meraviglioso. La capacità descrittiva, diciamo, delle cose è meravigliosa. E qui è molto romantico il romanzo, perché piacciono quei paesaggi un po' brutali, che evocano il sublime, i picchi, le grotte, i fiori. È quasi decadente, se volete. C'è un po' di odore di decadentismo, no? Questo gusto per i fiori, i colori, gli aromi, i vini, i tessuti, le architetture fantasmagorie. Ma non solo. Punto 2. Fogazzaro è anche un fantasmagorico descrittore di personaggi. C'è il segretario del conte Steinegg, un nesule tedesco, descritto in una maniera formidabile, non solo di fuori, di fuori, mi è riuscito di fuori, ma anche di dentro. Quindi ha una finezza psicologica pazzesca. Veramente. Non posso diffondermi più di così. Più che dirvi che è sublime e meraviglioso, non posso spiegarvelo di più, dovete leggerlo. Punto 3. Ha una vena comica meravigliosa. C'è, in particolare, la Contessa Fosca, o Marchesa, anche lì, non lo so, insomma, questa nobildonna veneziana che a un certo punto vuol far sposare il proprio figlio alla malombra, no? Fogazzaro, che era di Vicenza, di Vicenza, Z-O-M-U-N-O-S-P-R-I-S, che era di Vicenza, è bravissimo nella mimesi del parlato veneto, del dialetto veneto, con tutti... c'è una scena in cui... loro sono in Piemonte, no? Questi nobili veneti. C'è una scena in cui servono il caffè alla Contessa e lei con la serva veneta si lamenta del fatto che il caffè sembra acqua sporca, no? Ed è tutta una pagina in dialetto veneziano... veneziano, credo. Sì, perché i Salvadori sono di Venezia. In dialetto veneziano, bellissima, spassosa, 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 spassosa. Punto 4. E concludo, visto che la recensione deve pur essere mini, no? Punto 4. Ecco, è qui la questione più succosa dal punto di vista del contenuto teorico del libro. Fogazzaro ha una vena cristiana spiritualista interessantissima. Incarnata soprattutto da... non soprattutto, ma diciamo in modo molto preeminente, dal protagonista, Silla, che è da una parte un eroe romantico, un po' un Ortis, come lo Jacopo Ortis del Fosco. Tormentato, innamorato, smanioso di gloria, letterato, incompreso dagli uomini, rancoroso verso la società, che cerca di mantenere una sua dignità stoica quasi, eccetera, no? Ma al di là di questo, diciamo, c'è tutto un senso del divino che traspare in tutto il libro, in tanti personaggi, bellissimo, interessantissimo. Ecco, Fogazzaro era, non, probabilmente non già allora, non già nell'81, ma diventò un modernista. Con modernista si intende, anzi diciamo bene, con modernismo si intende una corrente di pensiero cristiano, tra la fine dell'Ottocento i primi del Novecento, che sosteneva, in buona sostanza, che la dottrina cattolica dovesse modernizzarsi e quindi dovessi, in qualche maniera, accordarsi, no? Con, va bene, la scienza moderna, la filosofia moderna, liberarsi del vecchiume, diciamo così, ma poi il punto fondamentale era che bisognasse leggere la religione come primariamente non un atto di fede verso una verità rivelata, come era tradizionalmente ritenuta essere la religione, ma come una qualche cosa che nascesse dal cuore del soggetto, dal sentimento, dallo spirito del soggetto. E perciò Fogazzaro si spende in analisi psicologiche, ma psicologiche forse troppo poco come parole, in analisi dell'anima, molto minuziose, tutti i tentennamenti, tutti i momenti di grazia, di estesi, i momenti di scoramento, eccetera, vengono tutti letti e descritti in maniera molto raffinata, dentro una cornice religiosa sorprendentissima, e dà veramente la misura di una vivezza della religione, questo libro, che è un qualche cosa di straordinario. Questo fu il modernismo, in due parole, ecco. Quindi, in qualche modo, ecco, modernismo come modernizzazione della Chiesa, come, quindi, interpretazione della religione come storicità e sentimento, soprattutto del soggetto. Ok? Ora, Fogazzaro a un certo momento entrò in conflitto con la Chiesa, quando divenne Papa Pio X, siamo i primi del novecento, che era veneto pure lui, il problema era grosso, Pio X impose una stretta, vigorosa contro il modernismo, fece uscire un'enciclica famosa, Pacendi si chiamava, Pacendi Dominici Regis, in cui condannava fortemente il modernismo, a favore di una concezione più tradizionale della dottrina cattolica e della fede cattolica. Fogazzaro fece uscire, mi sembra nel 1911, ma potrei sbagliare, dieci, insomma, in quegli anni lì, fece uscire il romanzo Il Santo, che era proprio un romanzo modernista. La Chiesa mise all'indice il romanzo e Fogazzaro fece in qualche maniera marcia indietro, volle salvare la sua appartenenza alla Chiesa e perciò in qualche modo sconfessò il contenuto del libro. E, attenzione bene, questo gli costò il Nobel, perché l'Accademia di Svezia volle in effetti in quegli anni dare il Nobel a Fogazzaro, ma lo diede in sua vece, lo dirottò in sua vece su Carducci. Carducci che vince il Nobel, mi pare nel 6, adesso che ci penso bene, nel 1906, quindi Il Santo sarà del 5, ecco, Carducci vinse il Nobel anche perché l'Accademia di Svezia non lo volle dare a Fogazzaro, che si era in qualche maniera ricreduto, che aveva fatto atto di sottomissione di Abiura in qualche modo, no? Ecco. Quindi questo è il quadro. Romanzo bellissimo, ripeto, la parte forse meno interessante è la trama, più interessanti sono le descrizioni dei paesaggi, dei personaggi, le riflessioni filosofiche, le riflessioni religiose, lo studio dei caratteri e delle anime, ci sono cose veramente toccanti, toccanti, profonde, belle, sublime. Io lo valuto diciamo 4,5 su 5, da leggere. Può essere per qualche lettore un po' tedioso, va un po' a gusti, è per quei lettori che amano questo tipo di letteratura. Devo dirvi che sto riscoprendo il romanzo italiano dell'Ottocento, noi non siamo una nazione che ha romanzieri colossali letti nel mondo come sono i russi, come sono gli inglesi o i francesi o gli americani, però bisogna dire che, a mio parere, soprattutto nell'Ottocento, magari nel Novecento un po' meno, paradossalmente. Soprattutto nell'Ottocento ci sono cose molto interessanti. Benissimo signori, io vi ringrazio, vi saluto, vi intimo, come sempre, di fare i bravi, eh, fare molto molto i bravi.